Partenza regolare, partenza regolare per una retezza in questo momento che prendono i redditi di base curva ultimizzata giustamente la retezza che chiude col tempo di 23.04 partenza regolare, partenza regolare partenza regolare la ferma la cenizza, tornò nei giorni ultimi, certamente a una gara, a tre mi sembra bellissima col tempo da 23.40 certa batteria partenza regolare partenza regolare chiude quinto e tre Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti.